E' venuto il momento di tornare a dialogare anche con un mondo che attraverso il PD d'Italia ha dimostrato di non essere solo quello di Salvini e di Movimento 5 Stelle, che infine c'era Napoli e niente più. Comincio con una battuta, non vorrei che porti male questa cosa di una valutazione preventiva positiva di un amministratore, perché anche Renzi fu accolto col fatto positivo che era stato sindaco per tanti anni e poi se l'è scordato subito quando è andato a fare il capo del governo, ma assolutamente sì che amministra dovrebbe partire con uno sguardo più lungo e quindi dovrebbe godere in genere di un'attenzione maggiore da parte di chi sa, come noi, quali sono i problemi. Io credo che sia innanzitutto un fatto positivo che ci siano persone che vadano a votare, che partecipino a una competizione per scegliere il segretario di un partito, quando viene fatto in modo significativo è sicuramente un fatto positivo. Ritengo che tra i candidati alla segreteria del PD sicuramente Zingaretti è quello che si presenta apparentemente come maggiori connotati di novità, ma non tanto perché è un uomo nuovo, perché Zingaretti è un uomo del partito, di apparato, quindi non è presentabile come la novità, però lui nelle sue parole ha spesso detto di voler aprire una fase nuova nel Partito Democratico. Siccome credo non sia corretto per il rispetto che si deve a chi fa politi e a chi fa istituzioni, valutare dalle dichiarazioni di intenti, dalle premesse o nello stesso tempo essere scettico e diffidente a prescindere, credo che Zingaretti va valutato per quello che farà. Se voglio dire è cambiato tutto per non cambiare niente, allora ci potrà sempre stare un dialogo istituzionale ma mai nessuna convergenza politica col Partito Democratico. Se invece si apre una fase nuova, nuova nelle parole, nei contenuti, ma consentitemelo di dire anche nelle persone, e allora sicuramente con un'esperienza come quella napoletana che ha sempre cercato il dialogo, lo sapete, soprattutto con chi non è su posizioni fasciste, xenofobe, anticostituzionali, noi con gli altri dal Movimento 5 Stelle l'abbiamo sempre cercato così come col PD, quindi se Zingaretti dovesse aprire una fase nuova e sicuramente dei segnali di dialogo noi li abbiamo sempre cercati e coltivati. Ripeto, voglio fare un'altra volta un esempio che a me ha colpito, Napoli e Milano, due città molto differenti, due sindaci molto differenti che però evidentemente si sono incontrati su dei punti fondanti in questo momento della tenuta democratica del nostro Paese. Sul PD le volevo fare un'altra domanda, il segretario regionale è un sindaco come lei, lei ha annunziato. Vale quello che ho detto prima, a differenza che qua mi sembra che non ci sono particolari segnali di novità in Regione Campania, il vento è un po' diverso.